Musica Ad inizio agosto abbiamo depositato una proposta di legge per rendere le multe dovute a infrazioni del codice della strada proporzionate alla capacità contributiva Una misura analoga è già presente in altri paesi europei come in Finlandia Qua in Italia è un po' più difficile a causa della grande evasione fiscale per questo abbiamo pensato di legare la proporzionalità delle multe alla potenza del motore, alla cilindrata, al chilovattaggio L'altro giorno il sottosegretario D'Angelis si è espresso in favore di quest'idea, di questa proposta e ha detto che il governo comunque sta valutando questa ipotesi Quindi dato che noi tra poche settimane andremo a discutere in commissione trasporti della delega al governo per quanto riguarda riforme sul codice della strada ci auguriamo che questa proposta venga discussa e inserita in questa delega che daremo al governo Grazie! 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 Grazie!